Ok, allora, per questa prova preparate il naso e la lingua. Allora, lo sciarro sta portando un vassoio con quante sei? Sette. Sette tipi di spezie e così a naso bisogna illuminare. Come si chiama? Come si chiama quello che metti nella cannella? Cannella. Quindi siamo a quattro, giusto? Questa è un po' buona. L'associato la riconoscete. Quello tipo radici. Zenzero, zenzero. Zenzero, zenzero. Questo qua è il curry. E questo cosa sono? Sale! Sette, sette. Sono sudamericani, eh. Si possono mangiare. Li faccio sopra la mano. Tempo scaduto! Come si chiamano? 10, 9, 8... Tu li fanno! 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 Non c liciamo! Non c'è tu! Ciao, ciao! Sì! Puffè?! machen! Ci dov'è?!